Una situazione molto ingarbugliata quella con cui dovete fare i conti, si parla di un disavanzo di 12 milioni di euro intanto. Sì, la situazione non è facile, noi abbiamo provato una Ferrari senza avere la carta di credito American Express Gold, avevamo i soldini per alimentare una 500, abbiamo i soldini per alimentare una 500, quindi va ridimensionata la macchina amministrativa e va tolto qualche cilindro facendo qualche riferimento motoristico. Possiamo dire che tutti i nodi vengono al pettine? Tutti i nodi vengono al pettine, stiamo cercando di pettinare la bambola in modo tale da togliere tutti i nodi, quotidianamente è un lavoro importante che stiamo facendo grazie anche alla struttura che si sta rivelando oltremodo disponibile e anche motivata nel fare questo lavoro di chiarificazione.